Anche quest'anno il servizio di assistenza di versamenti abili nelle scuole della provincia di Ragusa non è garantito. L'associazione Pro Diritti AH, in collaborazione con l'Anfas di Ragusa, ha voluto inviare una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma intanto le associazioni si mobilitano con una grande manifestazione che si svolgerà proprio nella giornata di domani con concentramento in Piazza Libertà e sit-in di protesta proprio dinanzi alla sede dell'ex provincia, oggi sede del Libero Consorzio degli Iblei. Speriamo di riorganizzarci perché questo sembra un appuntamento che ogni anno abbiamo prefissato, diciamo così, e a malincuore diciamo che dobbiamo lottare ancora una volta per i nostri diritti, per i diritti dei nostri ragazzi. La manifestazione si svolgerà fino ad arrivare alla provincia, all'ex provincia. Dobbiamo rivendicare ulteriormente i diritti costituzionali, oltretutto, che sono per i nostri ragazzi. Anche quest'anno il servizio non riparte, insomma i disagi per le famiglie e soprattutto per i ragazzi sono tantissimi. Sono enormi, sono enormi anche perché i ragazzi vogliono andare a scuola e non possono. Secondo me si doveva impedire a tutti di entrare a scuola, perché non vedo perché i miei figli non debbano andare a scuola quando tutti gli altri ci vanno. Questo è veramente demotivante anche per i nostri figli e per noi, soprattutto famiglie, che siamo lì a guardare i ragazzi che non possono andare a scuola. Questo è veramente... Qualcuno penso si dovrebbe vergognare di questo. Avete scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica per sensibilizzare le istituzioni. Sì, abbiamo anche fatto questo. Però penso che, non lo so se ci risponderà, io spero di sì, anche perché è stata una ragazzina a farla. Ma spero che altri politici ci possano dare delle risposte, perché non devono venirci a cercare solo quando ci sono le elezioni o quello che devono assicurarci i servizi anche senza tutto questo. Sì, purtroppo ci rivediamo. Ogni anno ci rincontriamo per sollevare sempre la stessa questione. Ancora oggi non c'è all'orizzonte l'idea che questo servizio possa attivarsi. Quindi noi non facciamo altro che registrare che tanti studenti sono a casa, alcuni vanno a scuola per poche ore, quelle più fortunate, quelle che hanno le famiglie che sono in grado di poterle accompagnare. E ancora una volta registriamo che il diritto allo studio è un diritto disatteso, oppure essendo un diritto essenziale. Che cosa vogliamo fare con la manifestazione di domani? Vogliamo intanto mostrare la vicinanza a queste famiglie, a queste persone e quindi che la comunità si stringa attorno a loro nella richiesta di questo servizio. Ma vogliamo anche dire alle istituzioni che è impensabile che possa continuare così. Questi problemi non sono problemi private che le singole persone, le singole famiglie possono approvare. Possono da sole farcela, quindi occorre che tutti facciamo la nostra parte. Quindi chiediamo veramente domani una grande partecipazione a questa manifestazione proprio per gridare che tutti abbiamo diritto ad avere i nostri diritti. Gli studenti hanno il diritto di andare a scuola, è un diritto che non gli possiamo negare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.